Novena a Maria addolorata Primo giorno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contempliamo oggi Maria che accoglie nella fede la profezia di Simeone. Questo mistero anticipa i segni del dolore, mentre esprime la gioia della consacrazione e imminente nell'estasi il vecchio Simeone, registra il segno di contraddizione e la spada che trafiggerà l'anima della madre. Dal Vangelo secondo Luca Quando venne il tempo della purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Preghiamo O Maria, umile figlia di Sion, che udendo la voce profetica di Simeone, hai ricevuto nel profondo del cuore, come spada tagliente, la rivelazione della via dolorosa del tuo figlio e hai provato l'immensa pena a motivo del rifiuto di molti. Ti preghiamo, ottieneci il dono di capire il sacrificio di Cristo, di seguire come discepoli il suo esempio di accogliere la tua salvezza. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu, dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi i tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. 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 Grazie.